Buongiorno a tutte e a tutti, ben arrivati. Io sono sempre molto commosso e contento quando si festeggia Graduation Day. Per me, devo dirvi la verità, l'inaugurazione dell'anno accademico è un problema, tanta formalità e qualche volta poca sostanza. Al Graduation Day invece il mio cuore batte e pulsa proprio in questa cerimonia e per quello sono contento di esserci e di parlare con voi. L'unico neo è che in entrambe le cerimonie devo vestire sta cosa che con la temperatura di oggi diventa particolarmente problematica. Ci stiamo lavorando per aumentare un po' la temperatura, i tecnici del riscaldamento stanno facendo del loro meglio, ma vedremo, riusciremo forse in seguito. Allora, io volevo spendere una decina di minuti per fare un po' il punto della situazione con queste splendide ragazze, questi splendidi ragazzi che oggi si graduano, anche se in realtà questa è una cerimonia virtuale in quanto tutti voi siete già dottori. La facciamo questa giornata e la facciamo assieme a Marika, Marika Branchesi che è qui con noi. Questo è stato veramente un colpo di fulmine tra Marika e me, scientifico intendo dire, non traintendetemi per piacere, quando l'ho sentita parlare a Trento in una inaugurazione dell'anno accademico, penosissima sempre questito così, in cui è riuscita a spiegare la complessità degli esperimenti sulle onde gravitazionali, i risultati eccezionali che è riuscita ad ottenere in maniera molto 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 semplice e molto molto diretta. Poi in pochissimo tempo, ovvero Marika, sei riuscita ad essere tra le dieci scienziate più influenti secondo la rivista Nature nel 2017 e poi ci raccontava anche prima, a New York è stata nominata tra le cento persone più influenti del 2017. E quindi un grandissimo, grandissimi complimenti a Marika che appunto è riuscita a raggiungere, oltre che i livelli scientifici eccezionali, anche dei livelli di divulgazione per portare la scienza all'importanza che deve avere. Ed è di questo che cercherò un po' di parlarvi nella mia introduzione. Gli elementi scientifici e il futuro che noi abbiamo di fronte sono in qualche modo legati all'economia. Tornerò su questo passaggio fra qualche minuto. Quello che vedete proiettato è un report del World Economic Forum che riporta nell'asse delle X la probabilità che un evento accada e nell'asse delle Y l'impatto che questo evento accada. Questi sono dati del gennaio del 2018. Cosa vedete? Che in alto a destra vedete degli elementi estremamente importanti che sono legati in qualche modo ai cambiamenti climatici e sono legati alla penetrazione della digitalizzazione all'interno della società. Extreme weather events, disastri naturali, cyber attacks, sicurezza informatica, eccetera. Il futuro quindi ci sta spiegando, ci sta dicendo che avrà due temi fondamentali e sono molto trasversali. Il primo tema riguarda la decarbonizzazione, cioè tutto quello che impatta in qualche modo produzione di energie da fonti fossili ma non solo e il secondo tema è la digitalizzazione. Su questi due temi il mondo dovrà confrontarsi nei prossimi anni. Per quanto riguarda il primo dei due temi c'è un grande dibattito sul fatto che il fatto di cambiare il sistema di generazione dell'energia porterà a dei problemi di occupazione non è così. Anche questa è una proiezione di Jacobson, rivista Joel, qualche mese fa. Un'analisi su 139 Paesi dimostra che lavorando in questa direzione ci sono 52 milioni di posizioni lavorative create contro una perdita di 27,7 milioni. Quindi il bilancio è assolutamente molto positivo. Si basa su tecnologie che in questo momento sono disponibili ma non disponibili in maniera completa e generale. Idrogeno, celle a combustibili, veicoli elettrici, elettrificazione spinta ai massimi livelli. Per quanto riguarda invece la digitalizzazione, quello a cui assisteremo sarà sicuramente una trasformazione radicale del nostro sistema industriale con stampanti tridimensionali, con robotica, penetrazione dell'intelligenza artificiale, sistemi cognitivi, ma anche in scienze che sono tutto sommato oramai a disposizione nostra da parecchi anni e molti di voi si sono diplomati in questi settori, c'è un'ulteriore convergenza della nanotecnologia, della biotecnologia, dell'ICT e delle scienze cognitive. Perché? Perché i mattoncini di Lego dei prossimi anni non saranno più semplicemente gli atomi e i bit, così come abbiamo sempre visto e pensato. Qualunque oggetto, qualunque servizio è composto o da atomi messi insieme o da bit. A questi bisognerà pensare di aggiungerci sinapsi e geni. Questo rende il sistema estremamente più complicato e quindi stiamo andando verso una distruzione, se vogliamo, delle discipline. Mi spiace dirlo perché noi siamo organizzati in discipline, abbiamo dieci direttori di dipartimento che sono discipline oriented. È la legge italiana che ci porta a essere discipline oriented. Probabilmente è tutto sbagliato. I settori scientifico disciplinari sono delle gabbie che ingabbiano i docenti all'interno di settori che gli stanno stretti, strettissimi a volte. E questo non funziona. Questo solamente nei due temi che vi ho citato capite che non può funzionare, perché le sfide non sono quelle. Non c'è ingegnere chimico o fisico che potrà risolvere uno di questi problemi che sto mettendo in evidenza. L'energia, l'acqua, l'ambiente, la salute dell'uomo in senso lato. Quindi si sta andando verso la complessità. La complessità farà sì che cambia completamente il panorama dei mestieri. Questa diapositiva vi mostra un lavoro di due statistici inglesi. Qualche tempo anno fa hanno calcolato la probabilità di sparizione massiva di mestieri a fronte della penetrazione della digitalizzazione, cioè dell'effetto del computer in senso lato. E vabbè, ci sono delle notizie molto positive. I telemarketers spariranno col 99% di probabilità. Buona notizia perché vuol dire che finiranno di romperci le scatole il sabato mattina per cambiare carrier telefonico. Probabilmente non sarà così, temo che sarà un robot che farà la stessa cosa. Però l'uomo non sarà più coinvolto in questa cosa qua. E questo è abbastanza interessante da notare cosa? Che le barre più piccole, quelle che stanno in fondo, che sono le probabilità di riduzione entro il 2030 più basse, sono quei lavori, quei mestieri che hanno una forte connotazione intellettuale. Lì non c'è macchina, almeno fino al 2030, che potrà supplire al contributo dell'uomo. Altri mestieri nasceranno. Qui ho cercato di riassumere una mappa dei jobs, delle occupazioni future. Man mano che ci allontaniamo dal centro, cominciamo a vedere nelle varie direzioni, a seconda della direzione, cominciamo a vedere situazioni che magari non potevamo nemmeno immaginare. Ma scusatemi, chi dieci anni fa avrebbe immaginato che ci poteva essere una professione che si chiama influencer? Web designer? No? Se io quando avevo dieci anni avessi detto a mia madre io farò l'influencer, mia madre ha detto prenditi il termometro e misurati la febbre perché è l'influenza quella che avrai tu, non l'influencer. Ecco, ma questo è quello che accadrà. Allora perché lo dico a voi qui? Perché quello che stiamo cercando di fare in questo Ateneo, ma in generale quando andiamo a formare dei dottori di ricerca, è quello di focalizzarsi su quelle che saranno le skill che voi dovrete mettere al servizio del mercato, sul territorio. E come vedete le skill stanno cambiando radicalmente negli anni, quindi ci si sta spostando. Guardate, le prime cinque posizioni nel 2020, le top ten skills, non hanno niente o quasi niente a che vedere con una spinta professionalità in un determinato settore. Risolvere problemi complessi, pensare criticamente, pensare, usare il cervello, creatività, gestione delle persone, coordinamento con gli altri, intelligenza emozionale, mi fermo lì perché ce ne sarebbero tante di cosa da dire. Come siamo messi e che cosa vedo per voi, dottori di ricerca? Beh, guardate, questo è un dato molto recente, qualche settimana fa, sui dottorandi di ricerca nei vari paesi europei. Siamo messi non troppo bene, quella scala là in alto sono migliaia di persone, uomini e donne, come vedete in Germania stiamo parlando di circa 200.000 studenti di dottorato, laddove in Italia stiamo parlando di 30-35.000, tra uomini e donne, più bilanciati noi in realtà rispetto ai tedeschi. è ancora molto, molto poco, soprattutto è molto poco se andiamo anche a confrontare il numero di laureati nella fascia 24-34 anni, gli obiettivi di Lisbona che vede l'Italia al 24%, purtroppo, mentre vede gli altri paesi europei oltre, mediamente sul 40%, in alcuni casi anche oltre il 40%. Il futuro dov'è? Lo vedete in quello che ci sta dicendo un po' l'Europa da tanti anni. Qui ci sono due, nella diapositiva, due parole chiave, SMEs and PhDs. Questo è il problema dell'Italia. A mio avviso ci deve essere consapevolezza da parte del sistema produttivo e anche della pubblica amministrazione italiana del valore che i dottori di ricerca hanno. Cioè, va bene che il dottore di ricerca vada, a me mi fa molto piacere che vada nei centri di ricerca di Mezzomondo e che venga riconosciuta la sua capacità scientifica. Sono contentissimo di questo. Ma da italiano e da europeo preferirei che andassero a lavorare nelle grandi aziende e portassero quella ventata di innovazione di cui il sistema ha bisogno. Questo vorrei. Purtroppo il sistema produttivo dell'Italia è fatto da piccole e medie aziende che a stento riconoscono il valore dei laureati. Punto. E questo è il problema. E dicono, lo dicono a me, ma a me cosa mi serve un dottorato? Devo pagarlo di più e allora perché dovevo prenderlo? Non ne usciamo granché. A meno che non ci sia un fortissimo cambio di mentalità. Ma deve essere fortissimo. Perché quello che noi vogliamo fare è che vogliamo avvicinare più possibile la scienza e la società utilizzando laddove possibile, utilizzando anche la tecnologia. Perché vi mostro questo grafico che potrebbe essere ovvio? Ve lo mostro perché in realtà non è stato sempre così e per anni le cose sono andate un po' ognuna per conto proprio senza tenere conto di quello che succede in un'area e nell'altra. Sono fiero di mostrarlo in questa sede, nell'università, perché se ci pensate l'università è quel posto, penso unico, in cui i tre elementi convivono. Qui c'è la scienza, certo, tutti gli aspetti scientifici, c'è la tecnologia, e beh direi proprio di sì, ma c'è anche la società, nel senso che c'è chi la studia la società e anche chi la vive. Avere una popolazione di 20.000 persone che comunque abita in questa casa è uno spaccato di società, 9% dei quali stranieri, quindi è uno spaccato di società moderna, società attuale. Che ve devo dire? Questa è più per Marica che per voi. Siamo a Trieste, siamo a Trieste che è famosa nel mondo per la sua rete di istituzioni scientifiche, che è famosa per il sistema Trieste, che conta oltre 30 ricercatori attivi, mi dicono che sono 37 adesso. Il problema probabilmente è perché è diminuito il denominatore, ma io voglio vederla in modo positivo. Ogni mille cittadini attivi, contro nelle medie che sono di gran lunga inferiori, si direbbe un ordine di grandezza meno. E questa è la ricchezza di questo territorio. E con questa ricchezza noi riusciamo comunque ad avere un posizionamento nei ranking internazionale notevole, che pur essendo qualche volta misconosciuti dalle graduatorie strane che il nostro ministero fa, ecco che quando ci guardano dall'estero siamo sempre tra le prime 10-15 università in Italia. Lo dobbiamo al fatto che abbiamo tanti ricercatori che fanno scienza in vari settori, che si portano avanti i progetti di dottorato, qui non ve li leggo tutti perché sarebbe lungo, ma ognuno di voi ragazze e ragazzi si riconosce in una di queste righe perché avete studiato qui. E questi sono settori, dottorati di ricerca, che abbiamo cercato di organizzare in tre settori, lasciando anche aperte le strade multidisciplinari come l'ambiente vita e la nanotecnologia. Stiamo cercando di portare avanti dei progetti trasversali, dei corsi comuni per potenziare i soft skills. Abbiamo a disposizione, mettiamo a disposizione borse di studio di Ateneo. Riusciamo anche ad ottenere da poche aziende, sfortunatamente, dei supporti per progetti di ricerca e anche per borse di dottorato aziendali. Un ultimo, ma non per questo meno importante, sono due anni oramai che abbiamo un premio della Casa Editrice Universitaria di Trieste per le tesi di dottorato che vengono discusse a Trieste e che vengono poi premiate e anche pubblicate gratuitamente. Insomma, si cerca di fare, nel limite delle possibilità magre che abbiamo, il possibile. Perché lo dico? Perché ritengo che se in questo momento non ho dubbi nel classificare Trieste come una università di ricerca, quella che in termini anglosassone viene chiamata una research university. Dico anche che non bisogna mollare assolutamente sulla formazione dei dottorati di ricerca. I dottori di ricerca e i dottorati di ricerca sono un po' la linea del piave di questa guerra, di questa lotta che stiamo cercando di portare avanti con tanta tanta fatica. Sono molto convinto di questo perché vedo che la qualità dei nostri dottori di ricerca quando vengono valutati all'estero è alta, è molto alta. Perché? Mi sono chiesto tante volte, mi sono fatto questa domanda. È forse il nostro dottore di ricerca più produttivo in termini di efficacia di un cinese che lavora 23 ore e mezza al giorno? No, perché noi non siamo fatti così. Ma noi abbiamo dalla nostra più di duemila anni di cultura con delle intermittenze tutto sommato abbastanza piccole speriamo che al giorno d'oggi non entriamo in un'intermittenza più grande lo spero vivamente anche se i segnali non sono incoraggianti abbiamo curiosità tipica degli italiani e quando un italiano è curioso nella scienza vuol dire che investica dei campi che sono fuori dalle gabbie vi ricordate le gabbie concorsuali di prima, le discipline? La curiosità mi porta fuori dalla gabbia poi è chiaro che il sistema deve riconoscere quella curiosità e valorizzarla e la creatività che è tipica nostra italiana direi che c'è un minus che è il problema che finché non abbiamo la scadenza di fronte l'italiano medio non si mette a lavorare dice sì, boh, boh, farò domani intanto andiamo avanti cosa ci sarà a Trieste nel futuro? Trieste è stata riconosciuta come capitale europea della scienza io non perdo occasione per ricordarlo a me e a tutti e quindi questa sarà una grandissima occasione per poter consolidare questa etichetta anche dopo il 2020 chiudo dicendo qual è la mia visione di università che la prendo un po' da una nota di Theo Roosevelt Roosevelt ci dice sempre, ci ha detto sempre di mantenere i nostri occhi verso le stelle non ho scelto a caso questa diapositiva, Marika però mantenere anche al contempo i nostri piedi ben piantati sul terreno e voi, dottori di ricerca, noi ricercatori anzi, noi ricercatori in senso lato perché anche voi lo siete abbiamo questa fortuna questa possibilità di andare oltre le nuvole e guardare le stelle direttamente questo vuol dire guardare lontano, avere visione cercare di capire dove va il mondo e che cosa serve al mondo non al rione di Trieste all'Europa, al mondo e poi riuscire a trasportare tutto questo in delle esigenze che invece possiamo portare sul territorio ecco, io mi fermo qui e vi ringrazio di essere venuti so che non siete venuti qui per me siete venuti qualcuni per lanciare il tocco altri per sentire Marika che pregherei gentilmente di accompagnarmi qui sul podio grazie mille allora, innanzitutto vorrei ringraziare per essere qui e per aver ricevuto l'invito ad essere qui in questo giorno speciale per voi, dottori di ricerca e vorrei raccontarvi delle scoperte meravigliose che sono avvenute negli ultimi anni e a cui ho partecipato dunque vorrei iniziare dal 14 settembre 2015 e vi faccio sentire un suono questo è il suono delle onde gravitazionali che sono state ascoltate per la prima volta in quel giorno ed è la fine di una ricerca che è durata 100 anni perché erano state predette esattamente 100 anni prima da Einstein ed è l'inizio di un nuovo modo di osservare l'universo questo ci dà la possibilità di ascoltare l'universo attraverso le onde gravitazionali ci dà la possibilità di osservare, esplorare quello che prima era invisibile questo suono è la coalescenza di due buchi neri che si sono scontrati a mezzo miliardo di chilometri all'ora e il suono è brevissimo è durato due decimi di secondo ma da quel segnale i teorici ci hanno permesso di capire appunto che sono due buchi neri che hanno formato un buco nero più pesante i buchi neri sono queste regioni dello spazio dove la densità è talmente alta il campo di gravità è talmente alto che niente può fuoriuscire e si formano dalla morte di stelle estremamente massicce che esplodono come supernove e il materiale ricade dentro dando a formare appunto questi buchi neri una cosa importante questi buchi neri hanno rilasciato in questo intervallo brevissimo praticamente tanta potenza quante tutte le stelle dell'universo osservabile e hanno viaggiato per 1.2 miliardi di anni prima di raggiungerci quindi ci hanno portato delle informazioni di 1.2 miliardi di anni fa dopo questa prima rivelazione ne abbiamo fatte altre cinque oggi sappiamo che i buchi neri vivono in sistemi binari che possono appunto fondersi insieme creare buchi neri più massivi e questi risultati hanno avuto degli impatti fondamentali nella nostra conoscenza di come le stelle evolvono e questo ha portato al premio Nobel di quest'anno che è andato a Ray Weisberry, Baris e Cape Thorne questi sono stati degli scienziati visionari degli scienziati che hanno perseguito il loro sogno per 40 anni quando tutti pensavano che l'astronomia delle onde gravitazionali era qualcosa di impossibile loro hanno continuato a sviluppare questi interferometri e oggi abbiamo questi osservatori fantastici che appunto ci permettono di osservare l'universo dopo che vengono trovati questi segnali di onde gravitazionali quello che si fa è quello anche di cercare di catturare un eventuale segnale elettromagnetico e quindi entrano in gioco quelli che sono i telescopi che abbiamo a Terra e i satelliti che abbiamo nello spazio che sono diciamo l'astronomia tradizionale la ricerca di segnale elettromagnetico è estremamente complicata perché i rivelatori di onde gravitazionali non danno una localizzazione precisa in cielo specialmente quando il network è formato soltanto da due interferometri e i primi segnali che noi abbiamo rivelato erano stati visti soltanto dalle antenne che sono negli Stati Uniti che sono due e tipicamente le localizzazioni in cielo sono enormi coprono quasi tutto il cielo e i campi di vista dei telescopi tradizionali sono molto piccoli nei volumi di universo che corrispondono a questi segnali ci sono milioni di galassie e quindi è veramente difficile trovare il segnale elettromagnetico ed è complicatissimo trovare la galassia da dove provengono questi segnali in realtà ai buchi neri non ci si aspetta che mettino anche segnale elettromagnetico ma gli astronomi sono molto curiosi e se i teorici dicono no, non ci può essere segnale elettromagnetico gli osservativi comunque provano a guardarci per vedere se c'è qualche sorpresa perché i maggiori avanzamenti della scienza sono venuti proprio dalle sorprese quello che era inaspettato ad agosto è successo qualcosa di importantissimo l'antenna che abbiamo in Italia Cascina Virgo è entrata in rete quindi è cominciato ad osservare l'universo insieme ai due rivelatori che sono negli Stati Uniti c'è stato un lavoro intensissimo per avere Virgo online e Virgo aveva soltanto entrato online appunto ad agosto aveva soltanto 25 giorni il run è durato diversi mesi il run osservativo di LIGO quasi un anno se mettiamo primo e secondo run e Virgo invece aveva soltanto 25 giorni per dimostrare la sua importanza nel network e sono stati veramente i 25 giorni penso più intensi della mia vita per tutte le scoperte per tutte che abbiamo fatto appunto in quel mese tutti i segnali che ci sono arrivati il 14 di agosto è arrivato un segnale e Virgo ha partecipato alla rivelazione del segnale e quello che vedete in questa immagine è l'importanza di Virgo allora se voi guardate quelle ombre che sono sulla sfera celeste quello che vedete è che sono molto grandi tutte quelle sopra e quelle in basso e piccolina quello che succede è che con un terzo interferometro si può fare la triangolazione in cielo e si può migliorare la localizzazione del segnale e da, questi sono mille gradi quadrati si arriva a poche decine di gradi quadrati cambia totalmente il lavoro degli astronomi tradizionali perché la regione in cielo è molto più piccola e per noi di Virgo sinceramente il run poteva finire il 14 di agosto eravamo contentissimi perché avevamo dimostrato l'importanza gli astronomi avevano puntato tutti i loro telescopi in cielo non hanno trovato niente legato a un buco nero però comunque era un risultato fondamentale Virgo è un osservatorio quindi avevamo dimostrato che insomma il fatto che poteva osservare onde gravitazionali e che poteva ridurre incredibilmente la localizzazione in cielo il 18 di agosto è successa una nuova scoperta epocale e questo è quello che è avvenuto ops dovrebbe partire il video vediamo faccio partire io allora abbiamo visto questo segnale sui dati c'è qualche problema nel video quindi non riesco a farvi vedere il segnale ok un segnale molto più lungo di quelli precedenti adesso non si riesce a vedere perché non funziona il video ad ogni modo il segnale invece di durare pochi secondi è durato quasi un minuto e subito dopo due secondi dopo il massimo del segnale gravitazionale è stato rivelato il satellite Fermi ha osservato un raggio gamma brevissimo quindi due segnali vicini avevamo l'onda gravitazionale e avevamo anche la controparte elettromagnetica la prima controparte elettromagnetica dell'estoria di un'onda gravitazionale abbiamo capito immediatamente che il nostro sogno era davanti a noi perché non era la coalescenza di due buchi neri ma era la coalescenza di due stelle di neutroni le stelle di neutroni sono delle stelle esotiche delle stelle anche in questo caso estremamente dense hanno una massa di circa due masse solari in un diametro di 20 chilometri un cucchiaino di stella di neutroni pesa miliardi di tonnellate e sono diciamo fantastici fantastiche per la presenza per l'alta presenza di neutroni e quello che successe è questo noi abbiamo visto ve lo racconto a voce dunque queste due stelle di neutroni hanno iniziato a ruotare una attorno all'altra e noi abbiamo rivelato l'ultima parte di questa danza quando le forze mareali diventano talmente intense che incominciano a distruggere parte di queste stelle e i neutroni si liberano nella zona circostante creano un disco di accrescimento temporaneo che genera due getti che si muovono alla velocità della luce e questi due getti danno l'emissione nel gamma e in particolare poi tutti i colori della luce quindi gamma, x, ottico e radio nello stesso tempo una parte di questi neutroni quindi questa massa molto ricca di neutroni si muove invece a velocità subrelativistiche e dà luogo ad un transiente che si chiama chilonova che è estremamente importante per la formazione degli elementi pesanti nell'universo e in particolare vi faccio vedere che quello che è successo dopo la rivelazione dell'onda gravitazionale è stato il cercare di catturare tutti i colori di questo di questo evento quindi tutta la luce emessa dalla sorgente di onde gravitazionali noi avevamo un problema sui dati quindi noi abbiamo visto il segnale intorno alle 2 però c'era un problema sui segnali del rivelatore più sensibile che è quello che abbiamo a Livingston e c'era un rumore che doveva essere rimosso quindi abbiamo lavorato tantissimo per rimuovere questo rumore per avere una localizzazione in cielo la nostra deadline era passare una localizzazione in cielo ai telescopi che sono in Cile lì abbiamo i telescopi di ESO i telescopi più importanti anche i telescopi americani sono in montagne molto elevate e sono i telescopi che riescono ad osservare meglio l'universo alle circa 5 ore e mezzo dopo siamo riusciti a passare una localizzazione in tempo per i telescopi cilini questa era la localizzazione più piccola che abbiamo mai avuto di nuovo Virgo ha giocato un ruolo fondamentale il segnale era piuttosto vicino piuttosto vicino significa 130 milioni di anni no, 130 miliardi di anni che corrisponde quindi a quando praticamente 130 milioni di anni quando i dinosauri erano sulla Terra quindi diciamo che questo segnale è partito e quindi noi abbiamo visto un segnale di 130 milioni di anni di anni fa quindi quello che è successo è che è partita la campagna osservativa più importante della storia allora abbiamo passato la localizzazione in cielo a quel punto in una galassia che si chiama NGC 4993 è comparso un oggetto nuovo che non c'era prima questo oggetto praticamente era estremamente blu all'inizio ed è diventato via via rosso nella prima settimana e tutti i telescopi al mondo e tutti i satelliti che abbiamo intorno alla Terra hanno puntato questa galassia e questa galassia ancora oggi è puntata dai telescopi che abbiamo a Terra e ci sono state tantissime sorprese e le sorprese praticamente sono venute appunto da questa campagna osservativa mai avvenuta prima nella storia e uno dei risultati più importanti è che in questa luce alla fine di questa luce di questo arcobaleno di luce è stato trovato l'oro nel senso che noi abbiamo dimostrato con queste osservazioni come si formano gli elementi pesanti nell'universo e come si forma l'oro e in particolare dalla brillanza di questo oggetto quello che è venuto fuori è che in questa fusione di due stelle e di neutroni si sono probabilmente formate dalle 10 alle 100 terre come peso di oro quindi una quantità immensa quindi da questi segnali che provengono da estremamente lontano noi possiamo spiegare perché sulla Terra noi oggi abbiamo l'oro e probabilmente l'oro che abbiamo sulla Terra viene dalla fusione di due stelle e di neutroni che sono avvenuti nella nostra galassia miliardi di anni fa e quindi questa è una scoperta bellissima perché appunto ci spiega anche la vita nostra quotidiana che è pensata notevolmente dall'oro o da altri metalli che sono più pesanti del ferro e abbiamo anche dimostrato che i lampi gamma che sono dei fenomeni che abbiamo mediamente quasi tutti i giorni i satelliti vedono mediamente ogni giorno un lampo gamma in cielo questi lampi gamma che sono brevissimi ma estremamente intensi anche questi lampi gamma producono praticamente in pochi secondi l'energia di tutta la vita del Sole e c'era un grandissimo dilemma dagli anni 70 ad oggi ce ne erano alcuni molto molto brevi e non si sapeva qual era l'origine qual era la natura di questi gamma ray burst si chiamano e abbiamo scoperto appunto che la natura la sorgente di questi gamma ray burst è la fusione di stelle e di neutroni quindi diciamo che questi due anni in cui abbiamo aperto questa nuova astronomia sono avvenute delle scoperte bellissime che hanno aperto proprio la nostra conoscenza e la cosa stupenda è che in realtà ecco neanche questo parte quindi non ve lo posso far vedere ma questo è uno spettro che dimostra appunto la formazione degli elementi pesanti nell'universo e questi sono tutti gli elementi che si possono formare dalla fusione di due stelle e di neutroni e quindi diciamo due anni in cui abbiamo questo nuovo modo di osservare l'universo e la nostra conoscenza dell'universo si è ampliata notevolmente e noi abbiamo aperto una piccolissima parte abbiamo aperto una zona in questo grafico vedete l'ampiezza quindi la potenza se volete del segnale verso le frequenze l'aigo virgo vedono soltanto le frequenze molto alte dello spettro di onde gravitazionali e già abbiamo scoperto la coalescenza di due buchi neri abbiamo scoperto la coalescenza di stelle e di neutroni gli interferometri adesso sono spenti rinizieranno ad osservare a gennaio 2019 e vedranno un universo più grande e quindi ci aspettiamo tantissime nuove scoperte e il nostro sogno è chiaramente quello di scoprire anche l'inaspettato e lavoriamo anche per aprire altre bande di frequenza ad esempio ci sono dei progetti per mandare dei satelliti nello spazio che osserveranno frequenze più basse e ogni volta che si aprono finestre nuove nell'universo la conoscenza dell'umanità aumenta la cosa più bella diciamo di quei mesi è stata che ogni giorno avevamo informazioni nuove e queste piccole informazioni andavano a riempire un puzzle che ci permetteva di comprendere un pochino di più l'universo quindi quello che abbiamo fatto è di unire il suono alla luce abbiamo questo strumento bellissimo che appunto sono le onde gravitazionali e l'ultima cosa che vorrei dire ai dottori di ricerca è che per voi finisce un percorso e inizia un nuovo percorso e che i sogni si possono realizzare se lavorate sodo e con onestà che dovete puntare in alto non avere paura di sbagliare e che il contributo di ognuno di voi permetterà di ampliare la conoscenza è giunto il momento di fare questa proclamazione ufficiale, virtuale dato che poi il tocco lo dovete lanciare magari se lo mette no, no, no non i miei colleghi i dottori intendo dire li potete indossare ma cosa meglio delle parole che ha detto Marika che sostanzialmente sono le parole che volevo che volevo dirvi io non arrendetevi il futuro è nelle vostre mani noi vi abbiamo fatto il possibile vi abbiamo portato fino a qua i vostri supervisori i vostri coordinatori i vostri colleghi hanno fatto tutto quello che potevano se siete arrivati qui visto che i dottorati in Italia sono tra i migliori in Europa vuol dire che siete bravi e siete brave non perdete mai la grinta siate curiosi siate creativi in tutti i settori si può essere creativi non è mica detto che la creatività ce l'hanno solo i designer ma tutti possono essere creativi gli ingegneri un po' meno ma va bene lo stesso e siate curiosi vi ricordate le tre C che vi ho fatto vedere prima la cultura è fuori discussione perché ce l'avete perché se non ce l'avete non sareste qua ma la curiosità e la creatività dovete continuare a coltivarla fate come Marika fate anche come me fate come tanti dei miei colleghi girate il mondo tante volte mi dicono cosa ne pensa della fuga dei cervelli e cosa? a me spaventano quei cervelli che vanno via lasciando il corpo qui questi sono le fughe dei cervelli che mi spaventano andate portate il corpo dentro il cervello fate le vostre esperienze e poi tornate che questo territorio la nostra università intendo l'università italiana ma anche quella di Trieste ha tanto tanto bisogno di voi ma quando tornate tornate con una bella spranga di ferro per distruggere i settori scientifico disciplinari per distruggere tutto quello che ci ingabbia e che non ci permette di affrontare i temi che ho in brevissimo tempo che ho avuto a disposizione ho cercato di mettervi in di portare la vostra alla vostra attenzione portate la cultura italiana e di questa regione nel mondo portate la visione cercate di ricordare quello che ha detto Theo Roosevelt sempre la possibilità di guardare via via lontano quando volete io guardo lontano quando vado a camminare in montagna qualcuno magari lo fa quando va a nuotare in mare qualcuno lo fa quando gioca golf non importa come e quando però abbiate la capacità di guardare e poi di riportare tutto nel vostro ambito e soprattutto nel nostro paese nella nostra Europa e non dimenticatevi mai mai dimenticatevi di sognare questo è il periodo in cui dovete sognare non arrivare a 70 anni e sognare non serve più questo è il momento abbiate dei sogni e perseguiterli finché potete chiudo citando Eleanor Roosevelt così così rimaniamo in famiglia il futuro appartiene a coloro che credono la bellezza dei loro sogni questo è esattamente quanto con questo io vi proclamo ufficialmente dottori di ricerca di questa università e vi auguro un radioso futuro adesso attenzione che dobbiamo lanciare il tocco sincronizzati e poi dopo partirà il coro che lo vedo già pronto grazie coro pronti? allora pronti? via col tocco grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti i nostri amici. Grazie a tutti i nostri amici. Grazie al coro, grazie all'orchestra, il nostro coro si è arricchito anche dall'orchestra. Grazie ragazze, ottimo lavoro. E grazie a tutti gli intervenuti. Grazie a tutti i nostri amici.